ah no posso venire sopra ecco signori in transit quando aveva messo la scala invece che fa il cazzo di tram guardate vedete qua aveva messo a diocane e si va su e siete sul tetto del bar guardate vai questo questo bravissimo quindi signori bel gg ah signor shaysel qua shaysel ci giri saluti youtube e basta vado a cagare